carichiamo la nostra pennetta zenkei allora innanzitutto come potete vedere bisogna aprirla una volta aperta al suo interno troveremo questa fialetta svitiamo e l'apriamo come seconda operazione rimuoviamo il tappo contagocce da la boccetta con gli oli essenziali facciamo pressione sulla pompetta rilasciamo la pressione ed ecco l'olio che è entrato nella pompetta dopodiché prendiamo la boccettina inseriamo l'olio essenziale premendo chiudiamo la boccettina la teniamo a testa in giù per qualche secondo dopodiché la andiamo a inserire nella pennetta la richiudiamo la inseriamo su un adattatore e la mettiamo su una presa come potete vedere si accende è funzionante può essere messa su qualsiasi presa usb anche della macchina in caso non ci sia la zenkei fornisce anche un adattatore